Ma che stai messo in testa? Non ho capito. Vedi che ora ti riscate? Sì, ma Massimo non sono stato preciso fino adesso. Non me ne prego un c***o che sono testato. Bello mio, per me è lavoro. Vedi che muovete, che stasera sono c***o di tua, bello mio. Ma che stai messo in testa? Fammi un po' capire che c***o stai messo in testa. Nessuna cosa, Massimo. Muovete, vai lì a cercare e portameli perché veramente ti sprufino per te fino a chi è il secondo tuo. A me, entro le 8, devi sistemare. Chiamo Edoardo, chiamo le 8, vieni, mi chiami, vediamo dove sto e mi sistemi. Se non chiami, vieni e buschi. Capito? Allora, ma se io per le 8, già me l'hanno dato la conferma, non ce la fanno. Sono, problemi, puoi. Sì, ma dai 8 stasera, a mezzogiorno a domani, fammi... No, no, sono c***o di mie se mi chiami o no. Non mi devi, c'è problemi. A me non me li crea nessuno i problemi. Tu come ti permetti di crearmi i problemi? Vabbè, intanto io anticipo, signor, io, il cortosio mio, chiedo una garanzia. Quale? Oltre a un assegno, oppure a qualche cosa deprezzioso. Non so, però, il tempo che le risolve, io lo ridiamo. Parliamo un attimo. Allora, se io per ditte, ne faccio un esempio, non capisca mai. Lei, domani mattina, mi scappa. Io, chi me la vado a vedere. Non me la posso prendere con una donna, perché donna, non sei tu. Se è caso mai, posso parlare. Tu marito non lo sa, quindi. No. Gli hai dato la carta? E con il pin, il numero del pin pure. E se sei arrivato a mezzanotte, che me sappia, per c***o. Il numero del pin? Che c'entra il pin? Il pin della carta. A chi l'hai dato il pin? Io sono da m***a con il pin. Il numero del pin con la carta. Ah, così va a vedere se hanno fatto il bonifico. Perché quella è la carta di chi è, scusa? È intuscata a me la carta. Ma tu chi sei? Fammi capire. E... Perché il bonifico l'hanno fatto a te? Eh, perché c'avevo la portiera, l'unica disponibile. Abbiamo fatto così. No, ma senti un po', ma dico, ma tu te rendi conto dei bucchia che stai a dire? No, 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 io non so di niente. No, no. Chi t'ha fatto il bonifico, te? Eh... De quanto t'ha fatto? 7500.